Quanti non sono, so, Manzoni per esempio, mica era figlio di suo padre, era figlio di Pietro Verri, e quanti casi ci sono di questo genere? Cioè il padre è una figura ininfluente, però mitizzabile, fin tanto che sta in una casa, domina, paga e mantiene la moglie, assume un ruolo che lo fa sembrare vero.